bene ragazzi bentornati sul canale di zio ivan per andare avanti con la saga di resident evil 4 missioni con ada sono distrutto in questi giorni non sto riuscendo a trovare il tempo per registrare ora ora è sera sto sveglio da stamattina presto e ho qualcosa come tre ore di sonno alle spalle ero tentato di andarmene a dormire dopo essermi fatto una bella doccia ma sembra che la doccia un po mi abbia svegliato quindi ci provo siamo vicini alla conclusione non so quanto manca ma cronologicamente secondo la storia di lion non dovremmo essere lontanissimi vedrò in caso di farmi tutta una tirata e mal che vada dividerò il video in due parti staremo a vedere finché ho la forza gioco e finché i riflessi resistono carichiamo ho caricato il file giusto sembra di sì ok sì sì stavamo in questa zona qui dovrei aver recuperato tutto non ci sono tesoro sì che ci sono tesoro come tesoro oh mamma aspetta un attimo ho perso il filo ragazzi posso tornare indietro sì fatemi studiare un attimo la mappa ok posso passare no questa è proprio una zona separata ah io sono arrivato da da qui mi sembra ok esploriamo qui c'è una valigia e un libro che posso leggere no fa parte dello sfondo questi non fanno parte dello sfondo 1200 pesetas e troviamo una cosa importante pietra russa della fede ok cos'è questo un cestino un trita tutto qui altre frecce io in tutto questo ancora devo provare la mia balestra cosa hanno fatto qui il gioco quello della musica che tutti ballano intorno alle sedie sadler toglie la musica i ganados devono sedersi dai un'altra granata un mano e io ho finito lo spazio ok mi prendo un attimo per cercare di dare una sistematina all'inventario vediamo cosa riesco a fare sono riuscito a fare molto poco lo spazio scarseggia ma dovrei riuscire a prendere questa in caso useremo qualche bomba tra poco c'era una valigia e l'ho aperta giusto mi sembra che qui non c'è nient'altro tranne ho sentito un rumore oh mamma ah sì sì siamo dall'altro lato di quel bordello il bulldozer è fuori uso questo è un tipico di lion era qui che c'era un tesoro ah no sta dall'altra parte qui siamo passati con lion ed Ashley qui c'è un'altra erba mi chiedo se riuscirò ok sì sono riuscito a prenderla non credo ci sia altro ce ne possiamo andare torniamo quindi dove stavamo prima oh e qui c'è un altro oggetto altre frecce ho finito lo spazio nella mia faretra chissà se posso mischiare qualcosa porca miseria no ragazzi non penso di poter fare nulla tranne che magari ecco sbarazzarmi dei proiettili per la mitraglietta tanto non ci faccio nulla c'è qualcos'altro di cui mi posso sbarazzare magari qualche granata accecante tanto che ci devo fare ragazzi ecco giusto per avere un po più di spazio e poi userò qualche freccia va bene per ora riequivaggiamo la pistola e proseguiamo noi dobbiamo andare qui però sì e alla nostra sinistra c'è un altro tesoro attenzione manganello elettrico ah giusto attenzione lo sento ma non lo vedo dove sei bello di casa santa madosca ah che colpo non usci provare mai più mi è volato lo scudo vallè morti manco ben niente nessun attenzione plug us mannaggia te aspettate proviamo un'altra volta questo vabbè proviamo la balestra aspetta devo abbinarci le frecce no ok sono già abbinate proviamola prima che ci accoppi ma sono frecce esplosive cattivissime mi piacciono peccato che ce ne ho così poche va bene non intendo abusarne ma potrebbero farci molto comodo torniamo un secondo qui devo vedere il tesoro è ah forse sotto oh porca vacca no è sopra il tesoro forse stava sul soffitto oh ma guardate e che cavolo l'aveva visto pietra blu del tradimento ok quindi dovremmo aver preso tutto quanto in questa zona dai carichiamo e proseguiamo maledetto pazza muori ora mi ricordo che qui potevo passare e mi sembra che c'era qualcuno qui a sinistra no naturalmente si è spostato non è come con l'ion qui posso andare sia sopra anzi andiamo proprio a vedere vai armadietti altri soldi e qui è dove ho sparato prima altro non sembra esserci ma tu prima non c'eri da dove sei apparso? ti ammazzo di coltellate proiettili risparmiati anche se non mi ha dato nulla ora qui ci sono due porte quella ha dato uno spazio chiuso quindi andiamo qui ah si si il magazzino eh ma io qui non ho spazio proiettili posso portarne ancora ma vabbè la bomba qui la granata sta bene dove sta ok porta ed ora possiamo andare qui giusto? si oh c'è l'ion che sta combattendo contro crauser immagino non morire eh l'ion mi raccomando che io qui ho ancora delle cose da raccogliere vai all for Umbrella's sake l'Umbrella quasi lasciatelo scappare enough talk die comrade oh andeghi dovevamo intervenire anche qui meno male che ho tenuto il pad in mano wow se non è la b***a in la reddressa sembra che abbiamo l'altra mano qui l'umbrella Ok, abbiamo concluso un altro capitolo ragazzi. Ok, nel frattempo ho fatto un altro taglio a causa del casino qui fuori, colpi andate a segno 79% circa, 74 persone accoppate e 3 video usate. Ma ho bisogno per il suo supporto per il mio obiettivo per ottenere i miei nostri obiettivi. Ho faccio quello che è necessario per mantenere il suo posto e farlo tutto bene. Grazie. Grazie. Ok, passiamo anche questo. Bene, usciamo e andiamo avanti. Ragazzi ne sto facendo di tagli, passa gente in continuazione. Moto, motorini, motozappe. Ma sta gente in ciavalla ora, dico io, vabbè, comunque. Salviamo sul secondo file e vai. 17 salvataggi, quasi 3 ore e mezza. E siamo al capitolo 5, dovrebbe essere il capitolo conclusivo a Ricordi Logica. Report, time is almost up. Crouser's dead. Really? Hmm, Leon doesn't die easily. That's fine, we can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. Poteva almeno salutare. Ok, capitolo 5, ottieni il campione. Quindi sì, dovrebbe essere il capitolo conclusivo. Sì, non hanno aggiunto qualcosa dopo. Bene, ci aspetta la famosa mappetta, quella che abbiamo visto l'altra volta. Quindi non perdiamoci d'animo, ci aspetta una bella passeggiata. Ciao amico mio. Munizioni per fucile, sì. Ah, ecco. Vendiamo qualcosa, cioè che ci siamo. Granata ciecante, bomba a mano. Erba gialla ancora la dobbiamo usare. Erbe mista, erbe mista, spray, lacrima viola. Questi ragazzi io non ho idea di dove li debba incastonare, dove li debba usare. Era montata su un altro oggetto, era montata su un altro oggetto. Ah, forse devo metterla sulla lince. Non mica mi ricordo, aspettate eh, fatemi provare. No. Sabina. Ok. Bene. E questi tre... Segni sulla gemma dicono che era montata su un altro oggetto. Eh, probabilmente quell'oggetto l'ho venduto. Segni sulla gemma dicono che era montata su un altro oggetto. Vabbè, per adesso questi qua teniamo, li vendiamo soltanto la lincetta. 35.000. Oh, valigetta extra. Questa siccome è una buona cosa. Vai, un po' di spazio in più e ci rimane ancora qualcosa per prendere la mappa del tesoro. Grande. Capita proprio a Ceccio. Sono rimasto scannato come pochi con 600 pesetas, ma se non altro adesso abbiamo anche un po' più di spazio nell'inventario. Ok, mi prendo un attimo per riordinare, per fare un po' di spazio, ci vediamo tra pochissimo. Ok, va decisamente meglio, c'è più ordine e c'è molto più spazio. D'accordo. Posso salvare qui? Mazzarola, no. Niente salvataggio. Ah, vediamo un po' la mappa del tesoro che ho comprato. C'è un tesoro subito qui davanti e lo vado a prendere. E c'è anche un signore che mi aspetta. Vada. Seccato subito. Ah, aspetta. Chissà se posso potenziare qualche arma. Un attimo ragazzi, tanto vale. Ah no, no, non posso fare nulla. Cos'altro potevo comprare? Solo una mitraglietta, ma a parte che non ho soldi, ma non l'avrei comprata in ogni caso. Andiamo avanti allora. Dov'è quel tesoro? Un po' più avanti. C'è gente? Oh no! No! Posso cecchineggiarlo? Dai! No! Oh no! Ammazza! Guarda, più che bene. Abbiamo anche ammazzato quello dietro. Uno spray, vabbè. Il tesoro dovrebbe essere... Da queste parti posso sparare il rampino, ma prima di spararlo, controlliamo. Ah, non c'è una mitraglietta. Quindi il tesoro è proprio qui sopra. Sì, è probabile che ci possa arrivare col... Ho sentito un rumore bruttissimo. Qualcuno che mi ha lanciato qualcosa. Ok. Grande. Altre frecce e proiettili per fucilozzo a pompa. Prendere. Ah, non vedi, occhio blu. E chi l'ha visto? Qui non posso fare altro. Quindi non ci resta che proseguire. Amici di Napoli. Napoli! Quello con lo scudo. No. Me la sto rischiando troppo. Andiamoci giù di fucile a pompa. Senza indugio. Sei morto? Oh sì. Tu no. Ma ti finisco... Accoltellate. Oh, oh. C'è ancora qualcuno che mi vuole amatar. Iiii. Alla balestra. Vai. Vacca. Vacchissima. Calma. Curiamoci. Prima di farci accoppare. Caduto un po' di roba. Ha ucciso anche l'amichetto suo. Sì, ma io ancora non ho capito. Eccolo. Mazzau. Non mi sembra di vedere altra gente, quindi possiamo proseguire. Altri tesori? No. In questa zona non ce ne sono. Ma però ne mancano tre più avanti. Qui possiamo proseguire. Ehm. 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 Aspetta. Bravo. Lancia, lancia. Ah, ah, ah. No, ancora no. Ok. Con calma. Cecchineggiamo i dinamitardi. Ok. Non mi raggiunge. Neanche mi ci spreco a spararli. Certo, magari potevo sparare con una pistoletta invece che con il fucile da cecchino, ma che ci importa? Andiamo. C'è ancora da esplorare, ma prima voglio prendere. No. Non mi dico che non posso. Torna indietro. Ehm. Disgraziati. Bravi. Tutti in posa. Ed ora. Chiudiamo in bellezza con... WIT. Da te. Ancora? E che non lo sapevo io. Vai. Mi sa che sto fuoco non si spegne. Che mi è rimasto? Niente. Soltanto queste. Ehm. Scusate, fatemi ricaricare. Su. In piedi, dai. Ok. Ok. La cosa si sta facendo complicata. Ammazziamolo in fretta. C'è un'altra larva. C'è un'altra larva. Basta, eh. Magari a te. E basta. Curiamoci prima che succeda. Ah, abbiamo anche... Ecco qua, un'altra erbetta. Dai che aumentiamo ancora. Finiti? Non ancora. No. No. Saranno finiti? Sembra di sì. Ok. Ma veramente mi state dicendo che io non posso tornare indietro? Da dove mi hanno sparato questi? Non posso tornare indietro. C'è anche qualcuno con le mine? Ah, no problem. Aio. Devo ammazzare. Sto in fame. Ma prima devo curarmi. Ah, usiamo questi. Calma. Facciamo le cose fatte bene. Ecco. Questo? Non lo posso colpire. Peccato che non posso tornare indietro. Mi sembra che c'erano delle erbe. Vabbè, che ce ne frega. Quelle sono munizioni. Siccome è una zona abbastanza attiva, è meglio fare una ricarica generale delle armi. Carichiamo anche il fucile a pompa. E io devo andare... Per forza. Qui sopra. Eh sì. Vai Ada. Che agilità. Buono. Un'altra bomba. Un'altra granata. E qui sotto ci sono munizioni. Abbiamo aperto un cancello qui. Che poi neanche ci sono passato troppo tempo fa. Eppure non ricordo tutti i passaggi. Aspetta un po'. Qui torno indietro, vero? Eh sì, sì. Un attimo che c'è un barile. E posso anche scendere qui. Che c'era qui? Un'erba gialla. Vai. E un barile. Con munizioni. Oh, porca ciavacca. Perché non urli come tutti gli amici tuoi quando salti fuori? Da posto. Qui dentro c'era qualcosa. Vai. Un'erba rossa. Quindi, anche qui abbiamo esplorato per bene. Possiamo proseguire. Qui dentro c'è un barile. 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 Qui dentro c'è un barile.